Oggi vediamo una meccanica molto particolare, nuova, inserita in Tenetina's Wonderlands che rende la vita molto molto più semplice per chi ama farmare i boss e per chi si ritrova spesso l'inventario pieno, ha sbagliato build, eccetera. Sto parlando del portale. Tutti voi che ci state giocando ormai vi sarete accorti che quando vi teletrasportate a Fulgibrilla senza specificare un teletrasporto verrete sempre teletrasportati dal portale e apparirete in questa zona, che è l'hub che abbiamo visto nel video precedente. Ora, il portale in sé è una nuova meccanica, non è solo un teletrasporto qua, ma è una sorta di salvataggio. Vedete questo simbolino con la manina? Indica che la nostra ultima posizione è stata salvata. Più nello specifico l'ultimo checkpoint. Il checkpoint sono sia le torrette quelle che vi fanno riapparire sia i luoghi invece dove proprio vi potete teletrasportare da una mappa all'altra. Cosa vuol dire che è stata salvata è che se voi siete in un qualunque punto della mappa vicino a uno di questi, o comunque ne avete passato uno, vi teletrasportate a Fulgibrilla e poi tornate indietro, il portale vi riporterà esattamente in quel punto e non a inizio mappa. Fatto un esempio velocissimo con il tumulo spacca ossa, vedete che mi trovo in mezzo alla mappa. Non sono all'inizio, non sono vicino a un punto di teletrasporto, sono vicino a un semplicissimo checkpoint. E sono riapparso qua. Posso poi di nuovo fare Fulgibrilla per tornare Fulgibrilla ma quella posizione rimarrà salvata. Questo è molto utile se avete sbagliato build, se dovete mettere delle cose in banca, se dovete personalizzare il personaggio, se dovete vendere tutto quello che avete nell'inventario e non ci sono macchinette, se dovete comprare munizioni, eccetera. Però prima ho parlato anche del farming dei boss. Perché è così utile? Perché questa meccanica dello fare avanti e indietro funziona anche in coop. Questo vuol dire che potrete andare in due, tornare a Fulgibrilla in due e riapparire. Ma la cosa ancora più interessante è che facendo avanti e indietro, tutti i nemici respawnano, anche i boss. Questo vuol dire che non dovrete più fare menu principale e di nuovo rientrare nel gioco. Bensì dovrete semplicemente prendere quello. Ovviamente vale la pena solo in coop. Se siete da soli, avete visto, ci vuole molto meno far menu principale. Ma se siete in due, saprete che se andate al menu principale, verrete rispediti indietro e verrà diviso il gruppo. Quindi dovrete di nuovo invitarre l'amico, aspettare che entri, rientrare. Ed è abbastanza noioso. Facendo avanti e indietro per Fulgibrilla, invece, è estremamente più semplice. Appunto, come detto, i boss vanno a respawnare, quindi potrete anche vendere l'inventario pieno di leggendari in late game e poi ritornare dal boss a farmare, eccetera, eccetera, eccetera. Una nuovissima meccanica, insomma, estremamente utile e che spero a questo punto di rivedere nei prossimi Borderlands, almeno per quanto ne concerne l'hub.